7 febbraio 1878. Muore a Roma Papa Pio IX. Il suo successore è Gioacchino Pecci, che prende il nome di Leone XIII. Con il pontificato di Pecci, l'atteggiamento del Vaticano rispetto alla questione romana, si andrà lentamente modificando. Grazie ai buoni uffici del segretario di Stato Cardinale Iacobini, la definizione di un accordo per la regolamentazione dei rapporti fra Stato e Chiesa non è più una chimera, anche se per un vero e proprio trattato in tal senso dovranno passare ancora molti anni.